Grazie a Vattaccio, capitano della Volalto, Volalto batta crescendo 3 a 0, una partita perfetta, l'ennesima partita perfetta della Volalto. Sì, è stata una bella partita, siamo riusciti a fare tutto con tanta attenzione. È stato importante vincere 3 a 0 anche perché c'è molta stanchezza sia fisica che mentale, quindi ben venga che abbiamo vinto 3 a 0. Rispetto alla gara di andata dove è stata una lunga battaglia fino al quinto sette, cosa è cambiato da McLoady a stasera? Credo che c'è stata un po' di stanchezza dovuto al viaggio, è stato un viaggio davvero lungo e ovviamente essendo un campo non nostro c'è stata molta più difficoltà. Ecco grazie, adesso c'è la finale, ma a inizio del stagione vi aspettavate di poter arrivare così in fondo al campionato o comunque è un working progress, ogni partita si crea un traguardo nuovo? No, in realtà all'inizio del campionato non c'era nessun obiettivo se non quello di mantenere la categoria. Ovviamente ballando continui a ballare, ci siamo ritrovati improvvisamente in una posizione che poteva insomma allettare un po' tutto, l'entusiasmo delle giovani ha aiutato molto noi esperti, quindi gli ingredienti messi bene fanno una buona torta. Ultima battuta, Livi Potenza o Cefalu? Ma in realtà non so perché questi sono momenti molto delicati, non so se è meglio Potenza o Cefalu, aspettiamo e vedremo.